Cristian, la Coppa è più grande di te quasi, eh? Sì, un po' grande Sei contento di questo risultato? Cos'è successo in prefinale? Che sei finito indietro e invece in finale eri velocissimo però non sei riuscito ad arrivare a podio Sì, non c'eravamo la velocità nella prefinale però nella finale era meglio la velocità Sei contento di questo risultato in campionato o speravi qualcosa di più? Sei contento di questo risultato di campionato però era un po' meglio il primo Cioè adesso ci sono altre gare però in questa stagione Sì, cerchiamo l'Euro Series e altre gare Lì vuoi vincere? Sì Complimenti, bravo Grazie